Salve a tutti amici e amiche della Monster High, oggi vorrei pubblicizzare un altro canale, ovvero DogBoy231. Il suo canale è molto molto bello e troverete dei video bellissimi. Mi raccomando, iscrivetevi al suo canale, mettete in piace e commentate i suoi video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!